Festeggia 10 anni il progetto Icaro per sensibilizzare i giovanissimi al problema della sicurezza stradale. Domani la presentazione degli spot firmati dagli studenti. Eccoli in anteprima nel servizio di Milena Pagliaro. E la creatività semplice e un po' ingenua dei ragazzi. I più piccoli sono le scuole medie, i grandi sono quelli delle superiori. La sicurezza stradale è il tema, lo svolgimento deve essere un vero e proprio spot, pensato, girato, montato. E allora, quelli che ancora non hanno mai guidato neppure un motorino, la sicurezza la raccontano con una corsa in corridoio. Chi va piano non si scontra. La scacchiera è invece il palcoscenico scelto dai più grandi, non farti dare scacco matto dalla velocità, il messaggio. Questi sono i finalisti del progetto Icaro 2010, domani verranno premiati. Ma sono 10 anni esatti che l'iniziativa coinvolge studenti e scuole italiane, 156 città, più di 90.000 creativi in erba messi alla prova. A loro non viene chiesto certo di stupire con effetti e montaggi accattivanti. No, qui l'importante è il lavoro che precede il genio creativo. Qui l'importante è metabolizzare l'importanza che ha per la propria e per l'altrui vita, guidare con prudenza. 10 anni che hanno ora portato Icarus anche in Europa. In Inghilterra lo spot sulla sicurezza stradale ha vinto il premio come miglior spot dell'anno. Creativi adulti e navigati, creativi in erba meditate. Grazie a tutti.